Il direttore sportivo dello Spoleto Alberto Del Frate, due belle vittorie Montemurlo e Civita Castellana, domenica lo Spoleto è inciampato invece a Caldine di Fiesole. Abbiamo inciampato e direi anche in maniera inaspettata da un punto di vista soprattutto di prestazione, visto quello che era successo il primo tempo. Il secondo tempo, come ha detto anche al mister in esamina che abbiamo fatto poc'anzi, sinceramente non mi è piaciuto nell'aspetto tattico della squadra, nell'aspetto caratteriale e comportamentale. Credo che subire tre gol in dieci minuti, soprattutto in un frangente per come eravamo messi, in vantaggio di un gol, soprattutto con una partita che avevamo letteralmente in mano, è stata una sorpresa letteralmente negativa. Quindi deve essere una pagina che deve essere immediatamente chiusa e ripartire con uno spirito più agguerrito, più da squadra vera. Abbiamo dimostrato nell'ultima partita con il Fiammini in casa che pur non giocando una partita da un punto di vista di coralità eccellente, però lo avevamo fatto da un punto di vista agonistico, soffrendo. Anche perché c'è anche l'avversario che è giusto che magari ti può far soffrire, non l'abbiamo fatto nella maniera giusta, abbiamo colpito al momento giusto e ci siamo difesi senza disunirci. Quello che purtroppo non è successo domenica scorsa a Caldine e se vogliamo diventare squadra e crescere da questo punto di vista dobbiamo farlo più presto. Domenica Alberto c'è il Trestina in casa, che succede? Il Trestina è un derby e come tutti i derby dire che sarà una battaglia è poco magari. I punti sono importanti come lo sono nel giorno di torno, come lo sono nelle fasi più incandescenti del campionato. Quindi bisogna cercare di farli attraverso una prestazione, ripeto, da squadra importante. Speriamo che la lezione di domenica possa essere servita a tutti e soprattutto si faccia del solo di questa sconfitta per ripartire come ci eravamo lasciati due settimane fa. Grazie. 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 Grazie.